Come fa la tua pella a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pella a sapere d'arancia, l'arancia siciliana? Qualcuno, qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente Perché io non lo chiederò mai a te, a te direttamente Perché io non lo chiederò mai a te direttamente E come fa quel tuo sguardo a puntare il futuro e a fermarsi su tutte le cose? E passare attraverso quei mondi incantati e arrivare alla fine del mese Nessuno, ancora nessuno è riuscito a spiegarmi chi sei veramente E mi sa che un bel giorno lo chiederò a te, a te direttamente Come il giorno lo chiederò a te, a te direttamente Ma per adesso è come stare al ristorante E mi chiederebbe chiedere il conto E mi chiedere il conto senza sofferenza E mi ha raggato il cuore E mi chiederebbe chiedere il conto senza sofferenza E mi chiederebbe chiedere il conto senza sofferenza al ristorante, se non hai niente da dire, non dire niente, una di rosso è mezza naturale e così per continuare quel discorso in generale. Come fanno le mani a resistere ancora non stringerti, fino a modire, come fanno le parole a seguire se intrecciarsi, fino a sparire, come fa la tua voce a cantare la fiocce che cade, il vento in sereno, la tua voce a toccare a sfumare nei colori dell'arcobaleno, la tua voce a toccare a sfumare nella luce dell'arcobaleno. Ma tutto questo è una questione di pazienza, come ospitare quel sorriso, una sentenza, come parlare del disordine mondiale, così tanto per fare un discorso in generale. E tutto questo è come stare all'istante, se non hai niente da dire, e vabbè, non dire niente, divi del mondo, o leggimi il giornale, così per continuare quel discorso in generale. come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana, come fa la tua pelle a sapere d'arancia, arancia siciliana. grazie